ciao a tutti e benvenuti su plenoctis io sono rob e oggi parliamo dell'episodio 6 di vanda vision un episodio che sostanzialmente in linea con il precedente ma che però alla fine comunque ci riserva il suo botto ben congegnato e che sicuramente rivela ancora una volta di essere una serie veramente totalmente a fuoco e che sa esattamente quello che deve fare tutto continua dove l'avevamo lasciato dall'episodio precedente cioè con l'arrivo di quicksilver con l'arrivo di pietro interpretato però da ivan peters e con darsi che dice che effettivamente vanda ha ricastato il ruolo del personaggio di quicksilver affidandola un altro attore rispetto a quello che avevamo visto nei film del marvel cinematic universe e in particolare mi vorrei soffermare proprio su pietro perché secondo me è un personaggio in questo contesto particolare dal risvolto appunto interessante in relazione alla psicologia di vanda cioè secondo me dobbiamo considerare che pietro non era all'interno di westview in questo periodo in maniera tale che lei potesse integrarlo fisicamente realmente all'interno della cittadina e il fatto che appunto abbia preso un altro attore per fare pietro secondo me significa che sostanzialmente lei sta parlando più o meno con se stessa e che il ruolo di pietro all'interno della dinamica della situazione e per quanto riguarda vanda è soprattutto appunto un ruolo di interlocutore psicologico in un momento in cui il rapporto con visione che vediamo anche all'inizio di questa puntata è sostanzialmente ormai lacerato con il personaggio di visione che vuole capire quello che sta succedendo e che ormai ha compreso che non è normale la situazione l'esistenza di pietro in questo momento secondo me è proprio per calmare per avere la possibilità da parte di vanda di avere qualcuno di cui fidarsi qualcuno che crede in lei e in quello che sta facendo e questo ci viene mostrato soprattutto nel dialogo che hanno dopo la festa di halloween dove lui non sembra preoccupato o critico nei suoi confronti e lei riesce ad ammettere effettivamente che sta facendo qualcosa non sapendo però come effettivamente si è iniziata solo con il grande dolore la solitudine e la tristezza che ha provato alla morte di vision non sa effettivamente come abbia fatto a creare la situazione ma lui non la giudica anzi comprende le sue motivazioni e secondo me il ruolo di pietro in questo momento è proprio quello di darle un supporto nel momento in cui quello di visione che con cui con il quale era stato creato un rapporto idilliaco all'inizio è venuto meno e tornando anche a quello che avevo detto precedentemente riguardo visione nell'episodio precedente che trovate qui sopra secondo me è fondamentale anche il suo personaggio che in questo momento veramente ha una scelta fondamentale fra il decidere di accettare la realtà che gli è stata imposta da vanda nonostante lui però sappia di non star ricordando qualcosa di fondamentale che è accaduto appunto prima oppure quello di cercare di uscire da questa realtà fittizia e veramente assumersi la propria identità reale e quello che lui dovrebbe essere effettivamente come dicevo anche l'altra volta è una situazione particolare perché visione che è stato creato in questo contesto per stare con vanda e ha dato alla luce anche insieme a lei due bambini in questo momento sente che la sua idea la sua intera esistenza il suo permanere il suo perdurare dipendono da vanda e eliminare questa situazione eliminare questo rapporto con lei significa probabilmente sparire anche proprio come individuo come esistente e tuttavia dopo la conversazione che ha con agnes alla periferia della città dove lui la trova ferma con la macchina come se non sapesse più dove andare ormai bloccata e la conversazione lo fa rendere conto che lui effettivamente è morto era morto in precedenza lui non sa nemmeno cosa sono gli avengers e lui probabilmente lì si rende conto che c'è tutta una serie di cose che lui non sa e che quindi la sua stessa esistenza è finta e la presa di coscienza di uscire fuori da questa zona per salvare anche le persone lo identificano innanzitutto come l'eroe buono e moralmente valido che decide di sacrificarsi per aiutare tutte le altre persone quindi lui prende in carico questa cosa ma al contempo appunto lui uscendo fuori perde perde se stesso e rischia di morire e questa secondo me è la più grande divisione che abbiamo effettivamente fra una vanda che sta cercando nuovamente di avere la possibilità di essere compresa di essere di fare in modo che anche la propria coscienza accetti quello che è successo e quello che lei ha fatto e dall'altra parte abbiamo invece visione che vuole risolvere la questione e quando lui esce fuori dalla west view inizia a decadere quindi qui comprendiamo che lui ha esistenza solo all'interno della zona mentre gli altri personaggi possono entrare uscire nonostante poi ci viene spiegato che anche monica nell'entrare nell'uscire ha avuto una variazione del proprio genoma c'è stato un cambiamento comunque un'alterazione delle sue cellule quindi la cosa non è in dolore però visione stesso non può effettivamente materialmente uscire senza senza distruggersi nell'atto finale noi vediamo vanda che quando il figlio billy le comunica che sta perdendo e ha un visione nella sua testa ma sta succedendo qualcosa per cui lui è in pericolo decide di allargare ancora di più il campo d'azione e i confini di west view e fino ad estenderli anche al all'accampamento diciamo dei militari della della sword includendo praticamente quasi tutti tranne e ward che è il capo che riesce che riesce a fuggire e questa forza che lei manifesta è molto molto forte alla fine della alla fine della puntata perché ci mostra che i suoi poteri sono in crescita non stanno diminuendo e nonostante lei sappia che ormai ormai è consapevole di quello che sta succedendo forse non del tutto però comunque l'abbastanza consapevole comunque per salvare vision ha deciso di estendere ancora di più i suoi poteri anche a costo di nuovamente forzare a includere persone che magari non volevano come la stessa darsi che rimane incatenata la macchina ammanettata la macchina e viene inclusa e non sapremo poi effettivamente in che modo è anche interessante vedere come l'accampamento della sword con un momento in cui viene inserito all'interno diventa una sorta di circo con i pagliacci e le cose quindi forse la maniera con cui lei stessa vedeva vedeva loro tutto questo è interessante ed è interessante anche la divisione che c'è se abbiamo visto che vision da un lato è il personaggio positivo mentre vanda in questo caso è colei che sta facendo in modo che tutta la città rimanga bloccata fuori monica è il personaggio che anche a costo di sacrificarsi vuole salvare vanda e quindi abbiamo questa questo incastro fra il personaggio femminile di vanda e il personaggio di monica che sono contrastanti e il personaggio di vision il personaggio di heyward che invece è il capo della sword che vuole distruggere vanda per fermare tutto questo questo mi sembra molto interessante perché hanno proposto proprio un chiasmo che in poesia ma diamo un incastro a x per quanto riguarda la gestione dei personaggi quindi all'esterno la sword monica è disposta anche a sacrificare appunto il fatto di entrare uscire e alterarsi geneticamente pur di salvare vanda perché tiene a lei e perché anche nel suo passato comunque c'è questa volontà di aiutare e salvare anche eroi che hanno delle problematiche e in questo contesto abbiamo anche degli eroi con delle problematiche e heyward che invece utilizza la classica azione semplice da militare distruggiamo il pericolo e stiamo a posto quindi mi sembra che comunque la serie proceda assolutamente in maniera intelligente con una visione ironicamente molto molto forte molto precisa e adesso abbiamo sostanzialmente la questione ormai verso verso la fine ma vedremo se comunque ci riserverà altre sorprese anche il fatto che a un certo punto il rapporto anche con con pietro si incrina e diciamo la sua coscienza un po le fa pesare quello che sta facendo anche questo è interessante vedremo poi successivamente dove porterà se voi avete visto la puntata fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se vi è piaciuta penso immagino di sì cosa vi aspettate dalle prossime e se siete d'accordo rispetto a quello che ho detto se il video vi è piaciuto mettete un mi piace iscrivetevi al canale per supportarmi e noi ci vediamo la settimana prossima con il prossimo episodio di vanda vision